mette in gioco a beneficio di Simonsen Olsen di favorire Simonsen su Antognoni ha successo la difesa danese che in verticale porta un bel contropiede fermato da Marini con l'angolo Lerbi il secondo passaggio a Simonsen è intercettato da Gentile Simonsen Simonsen servizio per Busch che è il controllore di Graziani Simonsen Ronsved che è il capitano bellissimo bellissimo tiro al volo di Simonsen e splendida risposta di Zoff in caso di Simonsen l'autore di quel bel tiro al volo che ha provocato la bella parata di Zoff invece Simonsen tira direttamente Zoff è un'altra velocità di Zoff perdete con Simonsen Pass Trouf Simonsen hanno un'altra velocità tocca per un'altra velocità di Zoff tocca per ultimo Gentile la rimesa di Zoff di Monten la fermata di Zoff l'ha fermato Gentile in l'attacco di Simonsen e abbiamo visto mancano nove minuti riconquista un pallone Simonsen va verso la nostra porta è un'altra velocità di Zoff ecco il terchino Rasmussen Grazie a tutti